La Corsa per il Colle La Corsa per il Colle La posta in gioco secondo l'autore è alta. Il centrodestra ha il dovere primario di rispettare la sovranità popolare presentandosi nel 2013 o quando sarà al giudizio degli elettori. Il dibattito verrà moderato dalla dottoressa Cristina Giangrasso e dopo i saluti delle autorità locali introdurrà il dottor Massimo Greco. Relazionerà successivamente il vicepresidente del Senato ed autore del libro Domenico Nania. Seguirà poi un dibattito sull'argomento trattato.